Buongiorno, salve, io sono Daniele Andreotti, uno dei soci del ristorante Voranoi e per quanto riguarda Toscana in Bocca, i nostri piatti sono Zuppa Frantoiana e Carpaccio di Chianina. Mi soffermo sull'ultimo, Carpaccio di Chianina, Chianina delle nostre zone, un Carpaccio marinato a secco, ciò vuol dire zucchero di canna, sale grosso, tutti gli aromi del bosco e poi viene affettato e assemblato con sparagina serbatica e scaglie di un ottimo parmigiano reggiano, quindi Chianina del nostro territorio, favolosa, buonissima, top, una delle migliori carni che si può trovare in commercio, cosa dire, vi aspetto, vi aspetto per assaggiarla e vi aspetto a Toscana in Bocca. Grazie.